Ciao a tutti, sono nella sede di Milestone per provare il nuovo gioco di MXGP. Sono emozionato perché spero di riprovare le stesse emozioni che ho avuto quest'anno a Maggiora. Sono eccitato dall'idea di provarlo in anteprima. Adesso vado a provarlo e tra poco vi racconto com'è. Ci divertiremo di sicuro. Chissà come mi hanno ricreato nel videogioco. Non vedo l'ora di rivedere me stesso in un videogioco, è la prima volta per me. Spero di trovare un aspetto simulativo vicino alla realtà e le piste con layout reali a quelle che trovo ogni anno nel campionato del mondo in motocross. Mi ha colpito molto via la grafica e la cura dei dettagli. La prima cosa che mi ha colpito molto è la realtà delle piste, del layout, delle varie asperità. Sono esattamente identiche a quelle reali. È un gioco molto evoluto e i piloti con cui ti scontri sono gli stessi e quelli della realtà. Perciò hai sempre la voglia di arrivare davanti a loro. Il risultato è quello lì. Quello che mi ha fatto strano è vedermi lì nel videogioco e sembrava quasi la realtà. Mi ha colpito tutto il lavoro che c'è dietro e mi ha colpito le persone che ci lavorano e soprattutto la passione che ci mettono a fare questo gioco. Abbiamo ancora un po' di migliorie da fare, abbiamo dato qualche consiglio sul posizionamento del pilota, sulla ripartizione dell'allenata. Amix GP è il futuro del motocross in videogioco. È un'esperienza stupenda, quello che ho provato, perché riflette al 100% la realtà. Amix GP, get ready to eat my dad. Amix GP, get ready to eat my dad.